Ma non ho capito, il problema qual è? Hai presente dietro di noi? Capelli grigi, con la pancia, vestito di nero? James! Sì, quando avevo dieci anni andava anche bene. Adesso come faccio? Mi scoporrebbe che me lo devo portare dietro. Ma scusa, non glielo puoi dire? No, i miei mi stanno addosso. Non è appropriato uscire senza autista? A parte che un autista a piedi non si è mai visto. Io nemmeno li sopporto più. La musica poppa è vietata. Alla mia festa di compleanno vogliono invitare i loro amici. Non c'è problema alla volta. Intanto perché James ti segue? Perché i miei hanno detto che mi devi seguire. Sempre e ovunque. Sempre, sempre? Sempre! Allora può essere divertente. In che modo, scusa? 3, 2, 1, via! No, aspetta! 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 Cosa ti sei perso? Tu sei fuori. No, un posto di Bacchia. Ti legge tanto Bacchia. Sta girando un nuovo video. Vai nei commenti. Ferma, ferma. Cosa dico? Non lo che sono qui in città. No, ma va, è dove? Non lo so, è segreta. Ma ci sono già un sacco di ragazzi che la stanno cercando. E allora, Siva? Il tuo idolo è in città e tu sei ancora qui. Sì, ma in realtà in questo momento Bacchia è la mia seconda priorità. Cosa? Ci sono novità su Alex e non ci hai detto niente? Mi hai chiesto di uscire. No, ma calma, calma, calma. Ma cosa calma? Non notiziona. Voglio sapere tutti i dettagli, adesso. Ma in realtà non ci sono dettagli. Non so perché vuole vedermi. Ma se ti ha passato davanti a 2000 persone, hai ancora dubbi? E se l'ha fatto solo perché l'ha preso dal momento? Cosa ha preso dal momento? Lo sai che Alex ci tiene a te? E se poi usciamo e siamo ziti tutto il tempo? Tu e Alex, ma quando? Non so, e se... Basta con questi se. Noi ragazzi ci facciamo sempre troppi problemi. E se, se, se. Figurati se Alex adesso si sta facendo tutte queste paranoie. Questa sera la bacio. E se lei ti dice che è confusa? La bacio, così si schiarisce le idee. E se ti dice che ti vede solo come un amico? La bacio così cambia idea. Beh, e se si gira dall'altra parte? Vado dall'altra parte e la bacio. Matt, per favore, possiamo tornare verso la macchina? Però piano, eh? Sì, James. Andiamo. Ciao. Ciao. Pronto? Parlo con Alex Leoni? Sì, chi è? Chiamo per conto della produzione di The Talent. Stiamo organizzando un'edizione speciale con tutti i vincitori dei vari paesi. Wow, capito. Voi ci sarete, vero? Vediamo. Ne parlo con gli altri e le faccio sapere, d'accordo? Grazie. Ciao. Ciao. Indovinate un po'?